stupendo, comodo, immediato e diretto cambiare impostazioni ma ti pare possibile che devi premere la manovella mentre stai a mirare ti smerdella tutta la mira in più devi essere un toggle che te appena lasci viene via io ho avuto sempre la grossa qualità di non interessarmi al cambio di impostazioni è quello che trovavo esatto e quando giocavi a Deistini fidete non è che premevi l'analogico lo facevi con il trigger sinistro e avrei pazienza senza pelino non potrò farccecchino vieni Marco aiuta no non è proprio ora bro non volevo che facessi come prima sono diventata io la tua maestra ma infatti io non ho mai imparato dalla vita e da nessuno ho sempre sbagliato nemmeno io nemmeno io Marco sono scelto sbagliato scrive pelletta scrive scrive pelletta cioè io c'ho visto il gioco più tempo di un amico c'è una skin figa eh l'ho comprata io ma spendili per qualcosa di reale gacchio devo spendere i riot point per qualcosa di reale chi me li accetta? me li accetta la coop ok allora va bene la ocean me li accetta ma perchè tu li compri coi soldi riot point? questo b l'ho comprata coi riot point amazon ah beh ok in questo caso è diverso già ti danno l'illusione ho comprato per qualcosa due skinner e a carico i soldi reali soldi finti per cose finte fantastico è geniale come cosa la vera indagispo sono finti ma si acquistano principalmente con soldi veri e vabbè quello se uno voleva il fissacchiotto che l'ha fatto se me la riblocchio forse gli diamo una bella strippelletta questa né però sto troppo lontano va per poco brava brava non so che adesso chiede una cosa scontata però perchè il carretto all'inizio me la sessanta e dopo un certo punto da novantaquattro e non è affrontata io non lo so dovrebbero da tutti no il minion è sempre 21 e 14 probabilmente così tanti soldi all'inizio è sbilanciante ah forse te lo dà in proporzione al tuo livello no no è tipo fino a un determinato allora c'è due giochi marco c'è l'early game eee e il late game tante cose cambia dal minuto 14 oh 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 merda quanta gente chi è questa diana vabbè però per poco non l'ho fatto più non l'ho fatto più allora c'è eeehh che fanno eeeh si fa mi mario comunque si è quel giochetto che hai comprato per tu un impoteo non ce l'ho mai avuto quando ero detto desideravo tanto alla vista di mario kart bellissimo ebra polistilla si chiamava ai nostri tempi questa è la carriera non lo posso credere campo aprile si erano solo la la serie facciamo i dentisti sti colpi e nemmeno il ruolo domani quando ero piccola la notte del genere presa no e non so no a reso non è morta dombo a calonno un bel carriani la marco di ventana lasciali fa No E noi andrebbero il drago Volendoci saremmo Si adesso cominciate a startarlo Pulisco questi e arrivo Proprio un secondo Ho paura che moriremo tutti e tre No 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 Arriva Diano, Diana Come cazzo si chiama Ancora non c'ha il 6 Non può farla quella cosa Se arriva Diana contro i 3 muore Il drago è ammazzato Così ah questo fa i lampietti Maledetto Cattivo Che è? No no tranquillo E' xerat dei nostri Io andrei in base Si Al carretto Una bozzicino Uttro Uttro Ah Baby I love you Madonna se sei molenti, porco Ha fatto il zè, infame Potrebbe venire sul jungler, ha fatto George adesso Ah, ok Facciamo di sentire la presenza a questi stonzi Non ce l'ho mai Arrivate, mignonna Beh, pure loro, calco Oh Buon appetito Senta l'allontana da che c'ho la bombetta che mi farà No, quanto mi mancava poco al 6 6, venivo Uh, ma, tutto scappo 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 Oh, mannaggia Eh, non io l'ho fatto Ancora io sai, sai che furio muoio? Porca pizetta per quella maledetta Ah, no, ok non muoio La maledetta unale ha spinto Scusi se, se si sto 헤o, zo sbagliato io Ma si sono fatti il messaggero Co Mi sono fatto Ah, ma hai lato Ah, ma riguarda tutto Tre secondi, niente, ho visto, tamer è sbagliato Buonasera Fruntiri Cars il mio spazio ha spaccato tutto fatto bravo a casa un pala a son morto e' un porto un porto pesci ma non è pieno di mar e' verba la onda adesso a colpirlo è morto e' te che dici a pantheon e' arriva adesso con la ulti sto a spaccare la world ma ho fatto in tempo allontanami e' morto adesso se viene qua non credo si avvicini senza minion ah tu io son morta però oh no non ho fatto in tempo a dare fuoco porca miseria per quanto perchè l'ho ucciso io poi? ah e' scoppiata la bolletta ce l'aveva ancora sotto oh cazzo io jungler? ahia adesso e' un problema questa ce l'ha cazzo mi sa va bene marco oh ma e' sempre wardado qua addio santo agosto 06 il giangler stava sotto ci vuole più lumi per tutti per un mondo migliore adesso ancora non ce l'ho però a me manca poco il no tutto 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 attento marco sarà quanti quello fa la grande un attenzione laiana l'ultimo si fanculo e niente non so altro lume da mettere no no ma riserva ciò potrebbe essere lei lo scuola e' una vera mamma sciolto 5 2 non pensavo che gli stronzetti piastro allora loro loro se non erano non faccio niente perchè è che i soldi si trova un altro ruolo che non ci muoiono no no marco io mi vedi 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 non c'è credo non l'ho presa aiuto sono morta comunque sono morta comunque non ci credo ok cazzo no che inizio il drago non c'è manco cagliato un po' più pericoloso in realtà è giunto giusto se cagliato scende marco scappa via è arrivata tristana pure tra l'altro vabbè ti è lì ti è lì tristana via porti su così non è giusto dun così muori marco e ma i ragazzi scappatevi andate in base lasciate tutto è andata andata mamma mia ti manca il male oh io ho raccontato è un nuovo giangelo vai bandi, ho un attaccato a sto cazzo, ho sbagliato la vita qui, e niente, torniamo a fare un giretto laggiù baby shark baby shark mamma mia mamma mia mamma mia manca di z vabbè oh, ci senti? visti marco ah, scusa marco ah, le vado non soffrendo, non so, porco oh, 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 marco oh, ma ammazza, ammazza non veniva la vada ah, non la prendevo fede scendi al barone, ah, vabbè, hai capito oh, veniti giù, veniti giù, che c'è anche le porte serie fate, fate pushà, fate pushà si, ma che c***o faccio pushà ops son morta vabbè, vabbè vabbè, un colpettino, un colpettino no, non ti credo mazzalo, mazzalo tu no, non ne lo dai ah, Siri beh, beh no, perché te lo volevo lasciato no, 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 è fatto bene, è fatto bene, è solo che il mio gine è lento come la merda, quindi credo che scappava eh eeeh ops no, poi i lutti del sera oh, io qui sono un po' a rischio in realtà ops eeeh, valla appigliato te do pure fuoco bravo si, vado in base allora mmm vabbè vabbè va bene va bene va bene va bene il bravo non c'è affronta, no non c'è affronta, no attento Marco che scende Iasuo, attento Marco, mannaggia la mineria che... oh cazzo Fede, scusa d'arco giuda ha voltato, sennò era morto quell'altro oh merda sono morta aiuto, 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 scappa, scappa, scappa no, dai, è mortato so, per amore ma grande è un fatto proprio però proteggeteci in bot, per favore bel flash proteggeteci in bot, per favore proteggeteci in bot, per favore ehm ehm ecco Marco, ascolta anzi la serie che... tu quando sei da solo non dovresti fare queste cose avventate e andare tanto avanti che bounty ha claimato Pantheon che è morto è la torre su... ma è morto, l'ha ammazzato in questo secondo di te rilascio ancora Pantheon, non ho visto che l'aveva fatta Niiiihihi Pantheon l'ha ottenuto che ho..come spaziamo tutto 31 secondi al drago si sta bene gioca gioca becca vieni verso il drago tranquillo a posto becca e vieni al drago tanto la dopo scampare vita propria verso la vuota è stata te ma Andrea è stata te ah ma se si presenta ecco la vuota guarda mannaggia vabbè io qui guarda l'auto ah non c'è credo porca miseria grande Marco mamma mia che male che gli fai ah no è stato lì ok Marco scudo di merda poverino è stato ucciso arrivo sarà difficile bella bella oh 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 bella yeah fanno un draghetto questa cosa che un attimo vedi la gente poi non la vedi più mamma mia che strana amica che in questo caso ha giocato a nostro favore sì sì perché c'ho un rosso c'ho un basso rosso e avrei ammazzato qualcuno che ce l'aveva ma non c'ho fatto caso vieni vieni Marco sogimi mamma mia ho sbagliato io no no vai via Marco vai via 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 no Marco no tu quando vedi che questi me pigliano me lasciami muovere non ci vengo amore che cannonate io adesso sai che fa che fa il giro da dietro e lo scanno orca miseria bella andrea bella andrea eh ma io gasuo vai tranquillo tutto aiuto poi vado davanti a una pantheon oh non devo far ma devo lasciarlo non c'è più Tristana non serve più che vengo giù non sappiamo dove attento che c'è eh sì 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 stanno lì ok non so sta con pantheon ma non devo far stare in top no allora io rischio il messaggero rischio a farmi eh vengo su pure io anche se sto sotto 28 secondi almeno con lo smite forse te do una mano continua continua per me puoi pure fuggire io non c'ho lutti non c'ho niente questo all'alentato oh stanno lì no eh no mi spiace ma lo voglio molto bravo Marco per poco oh che miseria che sfiga ah molto bella questa e insomma eh stavano rischiate a morire invece Xerath ci ha salvato quel culetto sì c'è il basso Xerath ci ha salvato il culetto ha salvato abbastanza il culetto dovevo mettere allora bene anche prima con l'ulti è una difesa magica sì capito lui guarda guarda tutta la mappa spesso spara l'ulti non per sé ma per cose che sta intorno esatto sì 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 più di una volta qua pure ha fatto sempre sì sì infatti io andrei via da qui vai innamo l'ultimo 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 a posto è meglio fuggire in un po' figlia per uno è almeno via tutti i mid come sa che son morto io pure dovrei c'ho ancora tanto tempo al messaggero vai 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 tanto tempo sì vai 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 ok vuoi che vuoi vederlo con l'apra sì oh cazzo ops non l'ho evitato la spada va un po' a rischio oh oh mamma mia ahahah 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 io l'ho fatta salvami perché non l'ho fatta ma io sono morta cazzo devi spararlo però no perché no vai fili se può fai da se può fai da ok c'è dentro tre eh fatti cristana via due via via messaggero ballante forza via spaffato brodo sono messaggero vai che si valla signori vengo 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 io sono ah no ragazzi fregate tenca la torre tenca tutto fede prosa umiliazione del mondo messaggero un po' presto ballante un po' presto eh madonna è scappato pure dall'inquadratura eh infatti e si valla signori ci abbiamo acceso pure a pantheon che stava in base molto bravo xerath guarda io mi so sentito dagli il voto infatti infatti lui è stava bravissima mi ha salvato in continuazione ma cristo santo il jungler che porta la squadra vince col messaggero ballante non gliela di voto guarda ok però però c'ha salvato tu c'è xerath ci ha salvato il culo parecchie volte mi dispiace caro sappiate che se fosse per voi non lo vedrete mai più in vita vostra vi sfido a vedere il messaggero ballante per merito vostro forza vi sfido guarda se eri qui dimostravo la vastità del cavolo che me ne frega di vedere il messaggero ho visto molte volte che il messaggero faceva con te carino però dai sei stato bravo anche tu te l'abbiamo io cazzo so 161 146 minion ho fatto i minion ho fatto i messaggeri ho fatto i draghi ho fatto le kill ho fatto tutto io l'onore anche se abbiamo votato tutti i quali certo ho fatto più kill meno morti più assist no perché se fai più kill è difficile più minion più obiettivi più cazzo più oro adesso voglio vedere anche i danni le nostre iscrizioni a twitch ricordati questo più danni poi che altro c'è più oro io vado più cure pure più cure più cure ho fatto più cure